Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli Così sta scritto Il Cristo dovrà patire e risuscitare dei morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati Cominciando da Gerusalemme Di questo voi siete testimoni e io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto Poi li condusse fuori verso Betania e alzate le mani li benedisse mentre li benediceva si staccò da loro e fu portato verso il cielo Ed essi, dopo averlo adorato tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio e alzate le mani li benediceva